La Fiat non rimanderà agli investimenti programmati in Italia, a meno che non ci sarà una rottura del paese. Sono le parole dell'amministratore delegato Sergio Marchionne dal Salone dell'Auto di Ginevra. Solo se si arrivasse a una decisione drastica come l'uscita dall'euro, aggiunto, il lingotto potrebbe far slittare gli investimenti. Marchionne nel suo intervento ha puntato il dito contro l'instabilità politica del paese. La certezza di governabilità dell'Italia è necessaria e ora non l'abbiamo. E proprio per far ripartire la macchina, il manager della Fiat ha detto di voler valutare nuovi investimenti in Italia, a Cassino e a Mirafiori. Stiamo riflettendo, aggiunto, l'obiettivo è avere le idee chiare entro il 2013. Quanto al mercato, il 2013, secondo la di Fiat, sarà più o meno come il 2012, sempre al traino degli Stati Uniti, con l'obiettivo di migliorare i risultati nonostante il cambio penalizzante dell'euro sul dollaro. Marchionne ha poi rassicurato sul rinnovo del contratto del gruppo, sostenendo che si farà perché le difficoltà non sono insormontabili. La trattativa sindacale, infatti, riprenderà l'8 marzo a Torino, data che, secondo il segretario generale della Fismic, Roberto Di Maulo, potrebbe essere propizia per raggiungere un accordo.